Il governo si muoverà con un tavolo che è già convocato per i prossimi giorni per seguire lo sviluppo degli assetti proprietari e le eventuali ricadute sullo stabilimento. Il Ministro del Lavoro sarà attento e vigile in questi passaggi, assicurerà tutti i contributi necessari per azioni di rilancio, per eventuali investitori che vogliono andare in questa direzione e contemporaneamente manifesterà grande attenzione affinché non ci siano misure che possano ridurre la capacità produttiva occupazionale, tanto più in un settore che ha una valenza strategica per il nostro Paese, in un momento in cui si investe fortemente sulla transizione ecologica e nel quale il nostro Paese deve colmare un ritardo, un gap, un deficit che nel corso degli anni si è determinato rispetto ad altri Paesi, proprio per trattenere gli investimenti che in questo settore si realizzeranno. Io ritengo che abbiamo affrontato le questioni in un bellissimo Consiglio Comunale straordinario che abbiamo tenuto davanti alla fabbrica, a cui io ho partecipato, come i consiglieri regionali che su questo territorio operano, Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis, tutti insieme in regione abbiamo concordato che la linea tracciata dal Sindaco Chienni, ovvero di una esplorazione di quelle che sono le varie opportunità e possibilità per garantire una managerialità che offra su un mercato che ha una prospettiva al futuro, perché la FIME riesce a offrire una tecnologia e quindi dei prodotti che sul mercato ci stanno e come, stanno nel piano della transizione ecologica, ecco, una rete, un'opportunità di garanzia verso lo sviluppo del futuro maggiore di quello che sembra oggi. Con questo ci dobbiamo muovere con la dovuta accortezza, perché comunque non siamo in una situazione come GKN o altre realtà in cui avevamo di fronte delle lettere di licenziamento e quindi la chiusura della fabbrica, quindi bisogna portare rispetto anche a chi in questo momento la sta gestendo, auspicando che tutto questo faccia fare un salto di qualità esplorando quelle strade che il Ministro ci può aiutare a vivere. E il via ci sarà a livello? Naturalmente dobbiamo essere presenti perché questa è una realtà che garantisce 700 posti di lavoro più l'indotto, è una realtà che offre al Valdarno Superiore una prospettiva di occupazione e di sviluppo importantissimo, che diventa per tutta la Toscana e quindi seguiamo con la massima cura e attenzione in questo caso per prevenire, di gestire e seguire insieme quello che è un percorso che di fronte a una imprenditorialità che opera su stabilimenti, che producano beni, che guardano alla transizione ecologica e quindi hanno un mercato, hanno una tecnologia, hanno delle professionalità nei dipendenti che le producono anche quella gestione manageriale che possa assicurare futuro.